Un'esperienza virtuale immersiva per grandi e piccini, un tuffo nella storia per conoscere il genio del rinascimento italiano. Leonardo da Vinci Experience è al Quasar Village di Corciano fino a domenica 3 febbraio. Mostra percorsi didattici per le scuole, laboratori, cinema 10D e narrazioni animate con attori per scoprire meravigliosi progetti scaturiti dalla mente di Leonardo da Vinci. Inoltre contest fotografico per vincere uno splendido diamante Taglio Leonardo in collaborazione con Bartoccini Gioiellerie. Leonardo da Vinci Experience, una bella scoperta!